Il pubblico ragusano è molto caldo e molto affettuoso, sicuramente so che mi accoglieranno bene anche se da avversaria, anche se non è poi la mia prima volta da avversaria con Ragusa perché ci sono tornata anche con Cagliari. Comunque si prospetta una partita molto tosta perché loro sono rinforzate con un ottimo innesto come l'Arkins. Noi siamo un po' acciaccate però continueremo a lottare e speriamo di portarla a casa.